Buonasera, nuova puntata di Password. Questa sera l'argomento è i consorzi industriali, il loro ruolo, il ruolo sul nostro territorio, parliamo della regione Lazio, la possibilità di sviluppo di questi consorzi e la creazione, se c'è, di nuove economie. Ne parliamo fra poco con i nostri gratiti ospiti, però come sempre prima di cominciare chiedo alla regia di mandare la sigla. Prego. Grazie a tutti. Allora, come avevo accennato, questa sera parleremo di consorzi. Con noi questa sera Andrea Ferroni, presidente della FIGEI, che cos'è la FIGEI? La Federazione Italiana Consorzi e Industrializzazione, che raggruppa e rappresenta i consorzi e gli enti per la promozione e lo sviluppo industriale. Quindi veramente grazie per essere intervenuto nella mia trasmissione, come grazie a Guido D'Amico, presidente di Confimprese con FAPI. Ho detto bene? Perfetto. Allora, comincerei subito con Andrea Ferroni, che ha il suo secondo mandato, che conferma quindi l'apprezzamento all'univoco del suo operato, che secondo me è stato buono, anzi ottimo, a livello nazionale. E diciamolo pure, in un momento non molto felice per quanto riguarda il livello imprenditoriale. Giusto? Stiamo attraversando un momento molto difficile. Quindi, secondo mandato, che cosa ci dice l'amico Andrea Ferroni? Ma il riferimento alla crisi che grava sul nostro Paese, più in generale, a livello anche internazionale, è ovvio che ha segnato qualche difficoltà per tante e tante nostri associati. Però credo di poter dire che la risposta che i consorsi per lo sviluppo industriale, ovunque, sono riusciti a dare, è una risposta essenzialmente positiva. Anche qui nella realtà delle Frosinate, a Cassino ed anche a Frosinone. Perché ricordo ai nostri telespettatori che il dottor Andrea Ferroni è venuto addirittura da Rieti, e lo ringrazio per questo. Sono venuto, sì, da Rieti, ma essenzialmente a rappresentare un'organizzazione che cura l'intero territorio nazionale, ovviamente. Il viaggio che insomma ha fatto per venire qui. E abbiamo ovviamente, come dicevo, avuto i problemi ovunque, però la risposta che siamo riusciti a dare è una risposta che è positiva, partendo tra l'altro da un qualcosa che abbiamo fatto noi stessi, parlo di consorsi industriali. Cioè, consorsi nati all'ombra della Cassare del Mezzogiorno, 40, 50, 60 anni fa, sono riusciti a mutare pelle, a cambiare anche atteggiamento rispetto a ciò di buono che anche era stato fatto. Ma oggi i consorsi industriali occupano spazi e riescono a dare servizi, sicuramente non ovunque e in modo omogeneo non dappertutto, però riescono a dare servizi che sono utili allo sviluppo del territorio e utili alla competitività delle imprese. Questo credo che riusciamo a fare, riusciamo a farlo bene, è il nostro mestiere e da questo punto di vista siamo uno strumento che può essere utile per la ripresa dello sviluppo del nostro Paese. Quindi lei crede di aver saputo dare slancio a questa organizzazione dei consorsi industriali italiani, però volevo chiedere quali sono state poi le opportunità che lei ha avuto per fare questo progetto, questa cosa? Beh, le opportunità sono legate a un know-how che avevamo, che era quello di sviluppatori tra l'altro e in pari tempo credo che quando dicevo abbiamo mutato pelle, anche se ripeto e lo sottolineo, non ovunque è stato così, però nel Lazio è stato sicuramente così, i cinque consorsi del Lazio che sono Gaeta, Frosinone, Cassino, Rieti e Roma Latina, sicuramente è stato così, siamo riusciti a mutare pelle e ad avere un atteggiamento d'ausilio rispetto alle imprese in alcuni settori che sono il marketing, l'internazionalizzazione, la formazione, quindi questo è un processo che abbiamo aiutato a fatica sicuramente, non abbiamo forse fatto fino in fondo tutto quello che era possibile fare, ma ci siamo mossi in questa direzione e ci siamo mossi anche in questa direzione di utilizzare al meglio strumenti e incentivi che derivano da azioni comunitarie e anche da azioni regionali. Bene, la domanda adesso passa a Guido D'Amico, presidente dei Confimprese e Confapi, prima ho raccontato che cos'è la FIJ, vogliamo raccontare invece, dire ai nostri telespettatori che cos'è la Confimprese e Confapi, questa sigla? Confimprese e Confapi sono due associazioni di imprenditori che all'interno di un unico sistema federale esauriscono il sistema della rappresentanza, perché Confimprese si occupa della micro, piccola e media impresa, mentre Confapi si occupa della piccola e media industria. Insieme rappresentiamo tutto il ciclo produttivo, dall'artigiano al commerciante fino alla piccola e media industria. Io sono presidente nazionale di Confimprese Italia e faccio parte della giunta di presidenza di Confapi. Quindi un impegno notevole, insomma, da parte sua. Un impegno abbastanza. Fare sistema, e io penso che questo sia l'imperativo per quanto riguarda le imprese, ma quale potrebbe essere, secondo lei, la formula vincente di questa cosa? Cioè fare sistema... Fare sistema passa da una serie di imperativi. Innanzitutto mettere assieme le migliori risorse, due, fare in modo che la rappresentanza sia fatta direttamente con gli associati. Io ho sempre detto che le associazioni fino ad oggi si sono servite dei propri associati. Da oggi le associazioni dovrebbero servire gli associati. L'altra cosa fondamentale di importanza è dare voce e forza a quelle che sono le cinghie di trasmissione. Poco fa il presidente parlava dei consorsi industriali come sviluppatori. Lo sono stati in passato e ora dico che sono acceleratori del sistema territoriale. Per cui fare sistema vuol dire creare una sintesi di tutti questi strumenti che esistono, associazioni, consorsi, enti locali, a favore del territorio. Dottor Ferroni, per continuare ad essere secondo lei attori essenziali nello sviluppo economico dei territori, l'abbiamo accennato prima, qual è stata secondo lei la rienterpretazione sul ruolo dei consorsi industriali italiani? Va bene? Grazie anche, l'abbiamo detto prima, al suo contributo della FIJ che sta acquisendo nuove, secondo me, nuove diverse funzioni, mi pare di aver capito. Giusto? Sì, sì, esattamente. Noi anzi lavoriamo in questa direzione. L'obiettivo che abbiamo è che le stesse regioni che esercitano vigilanza e controllo sui consorsi industriali dovrebbero emanare nuovi provvedimenti legislativi che diano corpo e funzioni anche diverse, perché ha ragione D'Amico quando dice che noi da sviluppatore siamo diventati anche acceleratori e acceleratori significa tutelare e rafforzare un sistema di imprese che comunque è presente. Noi nel Lazio credo che non abbiamo una mappatura precisa, ma nei cinque consorsi industriali abbiamo oltre 2000 imprese che operano con significative presenze. A Cassina a pochi metri da qui vi è la Fiat, ma anche a Latina vi è un polo farmaceutico che seppur vive una crisi molto forte e quindi c'è un sistema abbastanza ramificato e quindi allora noi reclamiamo. Vorremmo che da questo punto di vista vi sia nuovo ruolo e nuove funzioni. Tra l'altro saremmo aiutati, credo ormai è in direttura finale, via una ricerca che sta facendo l'Università di Cassino, attraverso la quale verranno individuate funzioni che i consorsi industriali possano esercitare anche in sostituzione di attività che oggi svolgono le amministrazioni provinciali o le ex amministrazioni provinciali e dovendo la regione del caso nostro, la regione Lazio, definire quali sono le competenze delle ex province dovranno riattribuire ad altre istituzioni nuove funzioni. Noi ci candidiamo ad essere per le parti di competenza per le parti in cui abbiamo professionalità e know-how a essere appunto soggetti destinatari di questi nuovi strumenti e nuove funzioni che sono utili, ripeto, allo sviluppo del territorio ma anche a rendere le imprese più competitive in un sistema territoriale. Volevo aggiungere qualcosa? Sì, vorrei aggiungere che i consorsi industriali sono sempre più strumenti di partecipazione. Se noi guardiamo la base sociale dei consorsi industriali esistono come soci, i comuni, le province, le camere di commercio, la regione, le associazioni degli imprenditori. Nel caso del COSILAM di Cassino, ma anche dell'ASI, le banche, le banche più rappresentative del territorio. Per cui una camera di compensazione completa delle istanze del territorio, dove sono presenti tutti gli attori principali dello sviluppo. Stavo facendo una serie di trasmissioni per quanto riguarda anche il COSILAM, che è importantissimo per il nostro territorio. L'altra trasmissione abbiamo parlato dell'indotto Fiat, della nuova inaugurazione per quanto riguarda l'Alfa, che avverrà il 24 giugno. Allora, alla luce di questi fatti, volevo sapere, secondo lei, l'importanza, anche perché è presidente della Confabico Impresa, l'importanza che il COSILAM ricopre in tutto il Lazio meridionale, se ha un'importanza, anche in termini sociali e ambientali. Qual è il suo ruolo, secondo lei, il COSILAM? Il ruolo del COSILAM è un ruolo guida, ed è il ruolo di un istituto che è un punto di riferimento dell'intero sistema produttivo di questa parte della provincia. Perché, dicevo, nel COSILAM partecipano a pieno titolo tutti i comuni di quest'area, partecipano a pieno titolo la Camera di Commercio, gli enti più rappresentativi, gli enti economici, le due banche più rappresentative di questo territorio, ci partecipano le associazioni degli imprenditori. Il COSILAM nel corso di quest'anno ha dimostrato di avere una vitalità e ultimamente anche una fortissima capacità di proposizione, dal rilancio di alcune tematiche come quelle dell'area Fiat fino alla presentazione che c'è stata proprio nei giorni scorsi dell'asse viario, che è una cosa molto importante perché finisce col collegare due aree produttive molto forti, ma finisce col rappresentare uno sbocco anche della produzione su un'area importante che è quella del Mediterraneo e del Baccano. Io ho detto nei frismini precedenti che l'idea è meravigliosa, il progetto è incredibile, speriamo che non sia una Salerno. I progetti cambiano sulle gambe degli uomini. No, che non sia una Salerno-Reggio Calabria, si spera solo in questo perché se così fosse cambia il mondo in tutto il Lazio. Però si è parlato di fare sistema, io ho visto alla presentazione una grande disponibilità sia della classe politica che della classe imprenditoriale su questa progettualità, bisogna che questo territorio impari a fare lobby, una sana lobby per costruire quelle infrastrutture che sono basilari per questo territorio. Abbiamo parlato del Cosimo, ma adesso però con il Presidente Ferroni volevo sapere, ci vale invece un po' del Consorzio Industriale di Rieti, quali sono attualmente le priorità di sviluppo adottate e in generale come si colloca al territorio locale? Torno sugli argomenti che venivano citati poc'anzi. Il Consorzio, anche quello di Rieti, ha nella compaggina societaria tutti i soggetti più importanti che per lo sviluppo locale e del territorio e vi comprese due istituti di credito e le associazioni di categoria, Federlazio e Confindustria, oltre a soggetti istituzionali, cammina di commercio e i comuni più importanti. E quindi da questo punto di vista, ecco perché io considero l'ipotesi del corridoio Tirreno Adriatico, una grande intuizione, cioè che testimonia del ruolo dei consorsi. Se ne parla da 50 anni. Sì, sì, questo è sicuro, ma un'intuizione che è portata avanti con rinnovato vigore dai due consorsi di Cassino e di Caeta, oltre che dai molisani, da Termoli in particolare. E quindi che testimonia come questo ruolo sia una ruola fondamentale. Rieti ha queste caratteristiche. Siamo riusciti in una fase di grande crisi, tra l'altro, come veniva detto. Io ho letto che è un punto di riferimento, adesso non è perché c'è lei, però mi sono interessato. È una piccola realtà. Un punto di riferimento a livello nazionale, addirittura. Ho letto. Essendo limitrofa Roma abbiamo fatto alcune scelte, quale il polo della logistica Roma-Nord, che è provincia di Rieti, che è nato in questi ultimi tempi e che sta vedendo l'insediamento di grandi gruppi a livello internazionale. È riuscito uno per tutti. Amazon costruirà... Ah, questo progetto Amazon. Ce ne parli un po', perché le volevo fare questa domanda. Che cos'è questo progetto? È un centro logistico. Un centro logistico. Amazon farà le porte di Roma, quindi nel territorio gestito dal nostro consorzio industriale di Rieti, farà un insediamento inizialmente di 40... Una specie come la Tirrino di Iatico, quella Nord, c'è questo Amazon, mi parla di aver capito? È un polo logistico. È un polo logistico. A Cassino l'abbiamo? A Roma Nord. A Cassino l'abbiamo? Sì, questo è un polo che sono 180 ettari, quindi una dimensione significativa. Abbastanza. È in prossimità del casello autostradale Roma-Nord. E quindi logisticamente... Quindi ha i confini tra la provincia di Rieti e la provincia di Roma e presenta le caratteristiche di essere a pochi chilometri da Roma e equidistante tra Roma e tra Firenze e Napoli. Quindi ha la caratteristica che grandi imprese hanno la possibilità di insediarsi. Uno dei primi insediamenti sarà prossimamente quello di Amazon, a cui seguiranno anche altri grandi gruppi a cui abbiamo già assegnato e venduto delle aree significative. Quindi è ovvio che la risposta che siamo riusciti a dare come Rieti è una risposta in termini strategici con questa scelta. E poi, avendo anche un'altra area su Rieti, che era specificatamente legata alle questioni delle comunicazioni e dell'elettronica, con la crisi dei due settori, siamo riusciti in qualche modo a dare risposte a crisi anche aziendali. C'erano delle vertenze tuttora aperte. A Rieti c'era l'Alcatel che ha chiuso, a Rieti c'era la EMS che era un'emanazione della Texas Instruments che chiuse a suo tempo, però ancora si mantiene. Quindi pensiamo anche da questo punto di vista di creare un polo nel settore delle energie rinnovabili, partendo proprio dalla riconversione strategica dell'apparato produttivo esistente. Questo è quel poco che siamo riusciti a fare in una realtà che, non sta a me a dirlo, è sicuramente di minore importanza rispetto a tante altre realtà del Lazio, ma abbiamo cercato di guidare un processo, come veniva detto Pocanzi, facendo anche delle scelte fondamentali, lo voglio dire. Noi siamo riusciti a fare in modo che i consorsi industriali, in particolare quelli di Rieti, di non venisse più gestito, mi passate il termine, dalla politica, ma che fossero gli imprenditori a essere anche i soggetti che guidavano questo processo e unitamente a me i membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti imprenditori, non ce n'è alcuno che rappresenta, poi ognuno sicuramente avrà le sue idee politiche che sono più importanti, ma sono imprenditori e quindi guidano, o tecnici che guidano questo processo, che è un processo difficile, complesso, ma su cui cerchiamo di dare delle risposte positive. Sforzo che è stato fatto anche a Cassino e a Frosinone, dove alla guida ci sono due rappresentanze imprenditoriali, il professore Delle Catrini e il presidente Proia, che rappresentano proprio il mondo del produttivo. Settori produttivi, sì, esattamente. Bene, allora mi chiedono la pubblicità purtroppo a me, restate con noi, l'argomento è molto interessante, allora un attimo di pubblicità e poi ritorniamo con le altre domande. Prego. Bene, allora, seconda parte, stiamo parlando di consorsi, con noi ospiti questa sera Guido D'Amico, presidente di Confimprese e Confapi, e Andrea Ferroni, presidente della FIGE, ricordo Federazione Italiana Consorsi, Enti e Industrializzazione. Volevo fare una domanda al dottor Ferroni, per quanto riguarda una cosa molto, molto, molto importante, perché la federazione è presentata alla Regione Lazio. Una propria proposta di legge di riforma dei consorsi industriali che è stata condivisa, io ho letto, e sottoscritta da diversi consiglieri regionali. Allora, questa è una cosa molto importante, vorremmo raccontare di questa storia, di che cosa si tratta e quali sono le prospettive. Noi abbiamo avanzato a questa proposta, in verità, fin da qualche tempo fa, poi l'abbiamo formalizzata ancora e sistematizzandola al meglio recentemente e è stata condivisa da un gruppo di consiglieri regionali. Lo abbiamo fatto perché l'obiettivo che abbiamo è quello di cui parlavo prima, cioè noi pensiamo che in questa fase sia necessario un intervento legislativo della Regione che riconsideri i consorsi e soprattutto li potenzi e li dia più funzioni. Quindi abbiamo ragionato su come la questione del ruolo e delle funzioni dei consorsi sia una questione decisiva. Poi abbiamo anche detto che non ci tiriamo indietro rispetto all'esigenza di razionalizzare anche i costi e la spesa, seppur costi e spese che sono a carico dei soci del consorzio. Noi non riceviamo finanziamenti pubblici. Noi tutt'al più partecipiamo a bandi pubblici per realizzare opere pubbliche, ma i costi della gestione dei consorsi sono costi che fanno carico esclusivamente ai soci. Bene. Punto. E ai soci rispondiamo. Io rispondo ai miei 16 soci, il professor Trequattini risponde ai soci, che sono un po' di più, è così come Proia Frosinone risponde ai suoi soci, l'intero Consiglio di Amministrazione risponde. E allora alla Regione noi gli chiediamo di fare un provvedimento di questo tipo. Partendo però da un altro dato, che la storia dei consorsi testimonia che essi sono strumenti che appartengono ai territori e che quindi necessariamente vi è l'esigenza dell'autodeterminazione dei territori. Le scelte fanno i territori, fanno i soci. Certo. Quindi eventuali aggregazioni e eventuali scomposizioni spettano esclusivamente alla compagine societaria. Quindi noi abbiamo da questo punto di vista una visione leggermente diversa rispetto ad altre proposte di legge che abbiamo letto, perché consideriamo invece che sia fondamentale ragionare molto di più sulle competenze, quindi rafforzarle e sullo snellimento della semplificazione. Perché i problemi che oggi hanno le imprese sono legati essenzialmente all'esigenza di avere procedure più semplificate. La burocrazia. Perché se un'impresa per insediarsi a Cassino piuttosto che a Riedi, piuttosto che a Gaeta, per poterlo fare deve passare 30-40 soggetti istituzionali e deve aspettare 10 mesi, decide di andare sicuramente da un'altra parte. Poi 10 mesi a essere buoni. Allora noi reclamiamo provvedimenti che a cominciare la strumentazione urbanistica abbiano tempistiche molto più brevi e più certe. Perché questa è la questione. Oggi le imprese, se certamente gli diamo un contributo, gli fa piacere e non a tutti. Però l'esigenza che hanno le imprese è quella di avere semplificazione e avere certezza del diritto. Allora da questo punto di vista noi reclamiamo... Ma è una cosa importante questo passaggio, eh? E questo è decisivo, non è che è importante. Questa è una delle questioni e noi tra l'altro abbiamo lavorato e seguiamo a lavorare sull'ipotesi burocrazia zero. Burocrazia zero. Questa è la questione di fondo. E' sempre questo punto negativo, questa burocrazia che ammazza anche l'idea, cioè ammazza la volontà di fare di più. Noi abbiamo fatto uno studio, un imprenditore medio sa quanti adempimenti deve fare in un anno? No, non lo so. 629. 629 adempimenti. Due al giorno. Esatto. Cioè sono un numero impressionante. Pensate a quanto tempo deve dedicare un imprenditore alla burocrazia. Allora, dottor D'Amico, per rimettere in moto, secondo lei, l'economia, promuovere competitività, innovazione, no? Ecco, l'abbiamo detto prima, sistema impresa. Qual è la sua idea? Che cosa possiamo raccontare? Premesso che, come dire, nessuno di noi si può ergere a Mago Maguro, perché le ricette per la ripresa sono tantissime. Innanzitutto occorre buona volontà. In secondo luogo occorre andare a colpire alcuni settori nevralgici. Uno è la burocrazia. La prima è la burocrazia. Troppi adempimenti, troppa burocrazia. Ecco, per esempio, la burocrazia, però, dicevo, ne parliamo a che cosa... Ma pensate allo sportello unico. Se realmente funzionassero gli sportelli unici... Ma è colpa della politica questo? È colpa della politica, assolutamente sì. È colpa della politica e della burocrazia della politica, perché anche la politica ha una sua burocrazia. I cosiddetti commidi Stato o comunque i super burocrati, che in questi giorni vediamo essere, tra virgolette, anche nelle cronache giornalistiche, sono non dei facilitatori, tutt'altro di quello che è il processo burocratico delle imprese. Lì bisogna andare a colpire. Lì è il primo segnale che bisogna dare. La burocrazia a chilometro zero, per cui l'adempimento per l'apertura di un'azienda, per le licenze che ci vogliono, per i permessi che ci vogliono, si potrebbe tranquillamente fare, non voglio dire in un giorno, perché è demagogia, ma tranquillamente in tre giorni. A breviare i termini, insomma. Assolutamente. I 600 e passa adempimenti potrebbero tranquillamente essere 100, meno di 100 anche lì, eppure a demagogia, ma 100 adempimenti nel corso di un anno sono quelli giusti per non aggravare l'imprenditore da orpelli inutili. Da stress incredibili. E da stress incredibili. Io le chiamo molestie burocratiche. Molestie burocratiche. Noi siamo molestati giornalmente dalla burocrazia. Questa potrebbe essere un titolo, un'apertura del giornale. Molestie, intrigante come cosa. Allora, Presidente Ferroni, l'altra domanda è questa. Le sfide difficili, se ci sono, e i progetti che i consorsi si preparano ad affrontare. Quali sono? La sfida difficile è quella di avere una nuova crescita del paese complessivo. È difficile, è complesso, è sicuro. I progetti attraverso cui farlo sono progetti che a mio parere vanno calibrati su aree basse. Noi dobbiamo sapere approfittare. Oggi la competizione non è più tra imprese, o perlomeno non è più solo tra imprese, è tra sistemi territoriali. E allora ragionare nell'ottica di una piccola realtà non basta. Può essere utile, forse a risolvere qualche problema a qualche impresa o a qualche amministrazione locale. Ma noi dobbiamo ragionare, e questo stiamo facendo, su come utilizzare anche la programmazione dell'Unione Europea per realizzare progetti di aree vasta, che quindi coinvolgano più aree. Il sistema, per esempio, dei consorsi del Lazio, i cinque consorsi industriali del Lazio, forse messi tutti insieme riusciamo a fare anche qualche progetto che attraverso incentivi, attraverso iniziative riesce a dare risposte significative in tutte e cinque le aree. Questa è la sfida che è difficile, che è complessa. Però c'è volontà, insomma. Alla quale necessariamente però dobbiamo far fronte e alla quale dobbiamo cercare di dare risposta. Allora, dottor D'Amico, c'è speranza, c'è una speranza per l'economia di questo territorio oppure no? Assolutamente sì. Ascoltando voi, insomma, è molto difficile operare. È difficile però il messaggio che dobbiamo provare a dare è quella che, facendo tesoro delle risorse che abbiamo, prima tra tutti i consorsi industriali, questo territorio può avere un rilancio reale, concreto. Questo territorio è certamente il territorio della Fiat, ma non è solamente il territorio della sola Fiat. È un territorio vasto, un'area vasta, come giustamente diceva il Presidente, in cui la Fiat recita un ruolo assolutamente di primo piano. Ma è un territorio turistico, è un territorio agricolo, è un territorio di piccola, micro e piccola impresa. È un territorio che ha mille risorse, che facendo sistema, anche attraverso i consorsi industriali e le nuove prerogative che i consorsi industriali potrebbero avere, il Presidente parlava di internazionalizzazione, parlava di sportello unico, parlava dei consorsi come detentori di alcune delle caratteristiche che prima avevano le province. Beh, eccolo, eccolo l'acceleratore economico. Ecco che i consorsi possono diventare reali protagonisti. E aggiungo, non è chiudendoli, accorpandoli o riducendoli che si risolvono il problema. Il consorzio è un'espressione del territorio, è un'espressione dell'autodeterminazione del territorio. Si può fare rete tra i consorsi? Assolutamente sì, è una proposta importante quella di fare una rete tra i consorsi. Ma non si risolvono, non è un problema di spending review. I consorsi non costano alla regione, costano casomai ai soci, mi corregga il Presidente se sbaglio. Per cui bisogna potenziargli, dargli più attribuzione perché il reale presidio del territorio passa da un consorzio importante. E anche il rilancio dell'economia può passare dai consorsi con nuove prerogative. Quindi abbiamo ascoltato gli esempi che ci ha fatto D'Amico, sono temi innovativi per quanto riguarda, abbiamo parlato anche di problemi energetici, abbiamo fatto un passaggio, progetti sulle rete, gli acceleratori che mi raccontava, gli incubatori di impresa. Allora, Dottor Ferroni, tutti i temi in cui dovrete confrontarvi, penso, e che chi come voi, credo che fa impresa nel nostro paese, si deve confrontare e quindi progettare. Ma in che maniera da qui a poco tempo? Noi lo facciamo come un mestiere, di fatto, uso strami anche improprio. Noi tutti i giorni ci misuriamo, così come il sistema delle imprese si misura con questi temi, perché noi dobbiamo far questo. Cerchiamo di farlo al meglio, non sempre troviamo interlocutori all'altezza, lo dico con grande franchezza. Allora è necessario che vi sia consapevolezza da parte di tutti, perché se vogliamo rilanciare uno sviluppo che tenga conto delle identità e delle risorse che i territori hanno, bisogna che tutti i protagonisti istituzionali e nonne di questo territorio partecipino a questo sviluppo. Allora da questo punto di vista è ovvio che dei passi in avanti significativi li abbiamo fatti, qua siamo in una realtà, quella del Cassinate, in cui il Consorzio è diventato altra cosa e dà impulso, credo, a questo ragionamento che sviluppiamo e allora bisogna che lo facciamo sempre più e sempre meglio. Ma per quel che ci riguarda, io credo, pur non essendo esenti da limiti e da errori, la nostra parte l'abbiamo fatta e la facciamo fino in fondo. Allora, come Figea, lei rappresenta aree significative, l'ho detto già prima, che disegnano un punto importante del Paese. Ma è così? E' un sistema disomogeneo, lo dico con grande franchezza. E' ovvio che vi sono realtà che funzionano al meglio e qualche realtà che è più indietro. E non è un fatto tra nord e sud. Vi sono consorzi industriali al sud che funzionano benissimo, così come ve ne sono altri che funzionano male o non funzionano bene. E ugualmente al nord avviene la stessa e identica cosa. L'importante è che vi sia un sistema, prima parlavamo di burocrazia, faccio degli esempi. Allora, la Lombardia si è interrogata, non so a quali risultanze sia pervenuta anche a livello legislativo, però si è interrogata sul seguente fatto, che molte imprese, anagraficamente, dalla Lombardia si trasferivano in Svizzera. E non è che andavano in Svizzera perché il mercato del lavoro costa di meno, perché non è così. Andavano in Svizzera perché la burocrazia è diversa e la certezza è diversa. E allora la Regione Lombardia stava pensando di realizzare, proprio per le zone di Sondrio... Ma se queste sono le chiavi di lettura, perché non si applica, perché non si prende l'esempio, come lei diceva poco a poco. E si stava, cioè appunto c'è chi cerca di farlo, appunto nelle aree di Sondrio, Varese e Como, si stava pensando di attivare, seppure in via sperimentale, un progetto a burocrazia zero. Perché se questa era la questione, bisogna farla tenendo conto che questo era il dato. Dottor D'Amico, volevo sapere un po', quali sono i valori aggiunti in qualità di Presidente di Confimpresa? Ma che cosa mirate da qui a poco tempo anche voi? Quali sono le vostre progettualità? Ma guardi, ripeto, noi non abbiamo la bacchetta magica, né presumo di essere migliore di altre confederazioni, né tantomeno... Però avete una prospettiva, no? Noi abbiamo, ripeto, l'ho detto all'inizio, fin'oggi in molte confederazioni si sono servite degli associati. Si sono servite per mascherare una rappresentanza che qualche volta era di comodo. Oggi è arrivato il momento di servire i nostri associati. E in questo stiamo, come dire, tracciando una strada. Speriamo di poterlo continuare a fare con dignità come lo stiamo facendo oggi. Perché per noi l'associato è veramente al centro del nostro sistema. Per cui più rappresentanza al nostro associato, più servizi al nostro associato, più possibilità di sviluppo ne diamo ai nostri associati, più abbiamo assolto la nostra funzione. I processi che i consorsi proseguono da qualche anno, quali sono? Processi in che senso? Sì, processi di progettualità, per quanto riguarda la progettualità di tutti i consorsi. Sono legati essenzialmente a quello di cui parlavamo prima. Noi siamo partiti a un dato. Prima di attivare delle iniziative abbiamo fatto una ricerca che ci ha curato il Censis. Ormai parliamo di qualche tempo fa, circa 6-7 anni fa. In cui dalla ricerca si evidenziavano due questioni. La prima è che una parte importante del fatturato complessivo italiano a livello industriale veniva prodotto nelle aree di competenza dei consorsi industriali. E l'altra è che c'era l'esigenza di attivare e dar vita a nuovi servizi. Io prima facevo riferimento, e anche qua è avvenuto così, il Consorzio di Frosinone nasce con la vecchia cassa del metro giorno. E quindi l'obiettivo di 53-54 anni fa, quando è stato costituito Frosinone, Cassino è più recente, era quello di infrastrutturare e dare le condizioni perché si potessero insediate le aree di industriali. Il Censis dice, qualche tempo fa, è ovvio che le condizioni sono mutate e oggi c'è la necessità che i consorsi industriali attivino processi attraverso i quali si mettono in rete le imprese, attraverso i quali si diano risposte a questioni che riguardano l'internazionalizzazione, all'innovazione tecnologica. Perché se è vero, noi sosteniamo che senza industria il Paese non va da nessuna parte. Però senza innovazione tecnologica, senza trasferimento di innovazione, senza ricerca l'industria non va da nessunissima parte. Allora vi è l'esigenza che anche i consorsi siano strumento che aiuti questo processo. Perché quando io a Rieti penso, nell'area industriale di Rieti-Città Ducale, a una riconversione strategica dell'apparato produttivo, ragioniamo in questi termini. Cioè è come dare risposte a un'industria che ha segnato le difficoltà e che se non si rinnova e non innova e non fa ricerca, non avrà le condizioni per poter avere ulteriori. E questo che credo erano le cose che D'Amico diceva e che riguardano appunto un sistema delle imprese che vogliono essere sempre più, avere semplificazione di vita, ma in pari tempo vogliono che le istituzioni e soprattutto coloro i quali debbono dar vita a una politica, perché poi il problema serio qual è? È che non c'è ormai da qualche anno una politica industriale degna di questo nome, nel nostro Paese non c'è. Perché diminuiscono sempre di più le industrie. Diminuiscono sempre di più le industrie. La manifattura tende a diminuire eccessivamente. E in pari tempo è stato depredato tutto il patrimonio industriale italiano che è andato nelle mani anche di multinazionali esteri. Siamo quasi in chiusura, volevo fare tante domande ancora, però faccio questa e poi un'altra. Quali sono secondo lei gli enti che puntano ad essere centri di competenza e fornire più servizi possibili alle imprese? Quali potrebbero essere gli enti che puntano a queste cose? Noi ci candidiamo ad essere questo. No, per le aree di competenza ovviamente. Per le aree di competenza o diventiamo centri di competenza oppure siamo destinati in qualche modo a essere non un ente inutile ma un ente che non ha prospettiva. Dottor D'Amico, invece, strategie di intervento e aree di attività per quanto riguarda la confimpresa, insomma la sua presidenza? Quali sono? A breve termine. Le strategie di intervento sono quelle di aiutare al massimo i nostri associati in tutti i settori in cui le imprese hanno bisogno, che cominciano dalla rappresentanza perché le imprese hanno bisogno di essere rappresentate presso le istituzioni, presso gli enti, presso tutto ciò che è camera di compensazione. E' un miglioramento notevole sui servizi immaginando e intersecando quello che è l'attività consortile perché la rappresentanza insieme ai consorsi può internazionalizzare le imprese. La rappresentanza insieme ai consorsi, soci dei consorsi, può essere un punto di riferimento importante per la formazione delle imprese e dei lavoratori. La rappresentanza insieme ai consorsi può essere uno sviluppatore economico per tutte quelle che sono le tematiche del B2B, del contatto dell'impresa di Cassino piuttosto che di Fosinone con quella di Varese piuttosto che con quella di Boston. Ecco, questa è la funzione importante della rappresentanza moderna, cioè non più il servizio del CAF, del patronato e quant'altro, ma è il servizio reale a favore delle imprese nei nuovi scenari. Un'ultima domanda, però è una domanda collettiva, nel senso la stessa domanda la rivolgo a tutte e due. Progetti vincenti, secondo voi? Secondo lei, dottor D'Amico, quali sono? Quali potrebbero essere i progetti vincenti da qui a poco tempo? Territoriali? Territoriali, parliamo del nostro territorio. Allora il Presidente invece ce la chiamo un po' di più. Il progetto vincenti territoriale è quello di costituire a Fosinone, partendo dai consorsi industriali, una grande cabina di regia per il rilancio del territorio. Questo territorio è stato un territorio che negli ultimi anni ha avuto più chiusure di altri, chiusure di aziende, lasciamo stare insomma le più sintomatiche, video e quant'altro, chiusure di progettualità, l'interporto, l'aeroporto, tutte aziende che sono nate e sono morte. Ora occorre una grande cabina di regia con tutti gli attori del territorio per il rilancio forte che passa dall'industrializzazione, dunque diciamo dal polo Fiat, ma passa per il turismo, passa per l'enogastronomia, arriva all'agricoltura. E chi le dice che ci vuole anche una grossa serietà politica? Questo lo auspichiamo. Fatti e non parole. Questo lo auspichiamo, ma in quella cabina di regia la politica ha un ruolo importante, vorrei dire importantissimo, insieme ad altri. Primus Interpares. Che è stato un po' fallimentare in una prima parte, sperando che ci siano cose migliori. Anche in provincia di Frosinone ci sono degli ottimi politici. Presidente, vorrei chiudere con lei, voglio chiudere con il dottor Ferroni, sempre operazione vincente, lei ha lavorato molto bene, ho letto molto bene su di lei, io ho fatto una bella ricerca, mi sono interessato, quindi ci si pone molta fiducia. Quindi l'Affigei e il suo futuro? L'Affigei, se parliamo di progetti vincenti, è ovvio che vanno tutti sottoposti a verifica, quindi i progetti li possiamo intuire. Io non per rimanere alla scuola, però è ovvio che i progetti devono nascere dal basso, devono essere legati alle esigenze del territorio e farli diventare, come dicevamo prima, di area vasta. Quindi bisogna utilizzare al meglio la strumentazione comunitaria, bisogna utilizzare al meglio la programmazione che fanno enti che sono tenuti a fare programmazione come è la Regione e dall'altra bisogna impegnarsi su alcuni settori in particolare. Ricerca e sviluppo, quindi trasferimento di innovazione come dicevamo, marketing e internazionalizzazione e poi bisogna soprattutto dar vita a veri e propri acceleratori di impresa che significa come aiutare i processi di nascita di nuove imprese che le start up innovative, in poche parole. E di come anche noi riusciamo a dare un contributo attraverso il quale imprese che in nuce riescono a consolidarsi attraverso un potenziamento e un'iniziativa che riescono a fare anche i nostri enti. In una sintesi, un'ultima cosa, l'augurio che faccio ai consorsi, quale potrebbe essere? L'augurio che faccio ai consorsi è che tutti tengano passo rispetto a questo obiettivo. Ci stiamo riuscendo quasi dappertutto. Insieme a noi bisogna che tanti altri soggetti facciano la loro parte, quindi da questo punto di vista auspichiamo che anche l'ente regione con il quale manteniamo buoni e corretti rapporti muova nella stessa identica direzione perché l'obiettivo è comune. Noi riusciamo forse a essere un braccio operativo che riesce a trasferire sul territorio iniziative pensate a livello di programmazione. Bene, allora la trasmissione finisce qui, io ringrazio ovviamente per essere intervenuto nella mia trasmissione che è Password, il Presidente della Confipresa e Confapi, il Dottor Guido D'Amico, grazie. Grazie a lei. Grazie al Presidente della FIG, ricordo, Federazione Italiana Consorzi, Enti ed Industrializzazione, Presidente della FIG, il Dottor Andreo Ferrori. Grazie anche a lei perché ha trovato un bel viaggio. La ringrazio molto, la trasmissione finisce qua. Ringrazio voi, ringrazio i nostri tre spettatori. Finiamo con una musica di Valentine Obsession. Quindi buonanotte ancora e buonanotte ai nostri tre spettatori. Grazie, grazie, grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.